Una buona notizia quella aggiunta nella serata di martedì per il Conservatorio Nicola Sala di Benevento. È stato infatti pubblicato il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti con l'allegata graduatoria che elenca i contributi concessi alle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica per la realizzazione di interventi di edilizia sulla base di programmi operativi avanzati dalle istituzioni. Per i contributi rientrerà anche l'ente musicale beneventano, il Conservatorio Nicola Sala di Benevento a cui andranno assegnate risorse per un milione di euro. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Conservatorio Verga e dal Direttore Giuseppe Ilario. Noi utilizzeremo queste risorse per fare questi impianti per quanto riguarda gli impianti elettrici, gli impianti di smaltimento gli impianti di efficientemente energetico, riscaldamento, raffreddamento soprattutto quello che attiene ad un miglioramento della qualità della vita dei nostri alunni e del nostro personale. Noi ringraziamo il Ministro per aver creato questo filone per quanto riguarda l'intero comparto della formazione artistica e musicale italiana. Abbiamo fatto un nostro progetto per quanto riguarda l'incoefficientamento energetico del nostro palazzo è stato ritenuto valido e ha avuto anche un pompudeggio, tant'è vero che siamo stati messi in gradotorie e abbiamo avuto questo milione di euro. Quindi noi useremo questi soldi per un coefficientamento energetico e per rifare tutto il nostro impianto elettrico. Grazie. Grazie. Grazie.